Buon sabato mattina a tutti voi, bene ritrovati per questo appuntamento quotidiano con la carta stampata, occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV. Prima di guardarli però guardiamo anche il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi sabato 27 giugno, San Cirillo Vescovo, il sole è sorto alle 5.27 e tramonterà alle 20.55. Postazione meteo di Fano TV che ci rimanda alla temperatura che in questo momento è presente, al suolo sono 18 gradi e poco più quindi vedete anche rispetto ai giorni scorsi temperatura in aumento di 1-2 gradi al giorno, guardiamo il cielo come si presenta alla webcam, direi sicuramente sereno, queste sono forse qualche traccia lasciata da qualche aeroplano che ci è passato sopra, vediamo cosa dice la protezione civile, eccola qui, vedete sereno, poco nuvoloso per il transito di lievi velature, debole attività cumuliforme e le precipitazioni sono assenti. Questo era quello che riguardava oggi, anche domani, domenica però inizialmente ci sarà un cielo nuvoloso anche durante la notte però insomma per il resto della giornata poi vedete sulla provincia di Peserubino e un po' su tutta la costa, sole non pieno ma insomma una bella giornata di sole, ci sono dei brevi episodi isolati come precipitazioni però sui monti Sibillini, vedete nel basso della cartina quindi non riguardano la costa, per lunedì anche qui sereno, poco nuvoloso, transito di velature ma nessuna precipitazione, le temperature continuano a salire, continueranno a salire per tutta la settimana prossima, anzi avremo temperature importanti, questo lo dicono le previsioni a lungo termine, tendenza sarà questa, alta pressione continuerà a garantire giornate stabili, soleggiate e con temperature in progressivo aumento ed è dietro l'angolo l'afa e quindi grande umidità soprattutto nella seconda parte della settimana e quindi prepariamoci insomma a temperature affose, si parla anche di temperature intorno ai 35-36 gradi, vediamo come sarà. Partiamo dalle pagine del resto del Carlino di Fano, la tragedia che ha colpito la comunità del Fenile ieri, bimbo di 8 anni muore sotto le ruote di un rimorchio, il padre di Edoardo rimane illeso, Edoardo è il nome del bambino. Porto ai minimi storici incagliate due vongolare, Carloni consigliere regionale dice situazione grave, intervenga subito la regione, qui nella foto vedete la prima imbarcazione che si era incagliata e poi la seconda che tenta di portarla via dalle secche però ambe due hanno avuto i motori danneggiati da questa operazione e quindi veramente situazioni che per i vongolari sono situazioni critiche perché sinceramente non si riesce a lavorare serenamente in questo modo. Aset, guerra delle cifre, siamo sempre nelle pagine del resto del Carlino che riguardano Fano, a Capodagli e Testa non tornano più i conti e scontro tra i vertici SPA e holding, scadenze in discussione, l'interpretazione del bilancio. Dal primo luglio sabato e domenica sospesa la raccolta dei rifiuti, ci sono cambi di giorni, ci sono cambi di orari e quindi cambia un po' la metodologia di raccolta. Rapina in farmacia, armata di un cacciavite, l'uomo poi ha chiuso i due dipendenti nel bagno ed è fuggito con 800 euro. Vi ricordiamo a proposito della raccolta differenziata che nel nostro sito c'è l'articolo che vi abbiamo fatto vedere ieri nel telegiornale dove sono riassunti un po' i giorni, gli orari e quant'altro che riguarda questa variazione di raccolta. Ancora l'ultima pagina che riguarda Fano, parliamo di politica, in questa pagina si parla di politica e della lista Noi Giovani riguardo alla scelta della presidenza del Consiglio Comunale di Fano, sapete che Minardi lascerà perché è andato a ricoprire il ruolo di consigliere in regione, quindi si avanzano le ipotesi. Noi Giovani scelgono Danna come possibile candidato e dicono rinnovamento, giunta e consiglio, non siamo un ufficio di collocamento per politici. Andiamo nelle pagine del resto del calino, rimaniamo sempre sulla testata bolognese, però guardiamo Pesaro. I nostri soldi, Autovelox, sentenza Speranza perché la consulta chiede agli enti locali adempimenti e controlli minuziosi sulla manutenzione di questi apparati. Questa sentenza Speranza aumenterà e alimenterà la voglia di ricorso. Senza adeguata manutenzione le sanzioni vanno annullate, le associazioni dei consumatori, Federconsumatori, ad Usbef annunciano la discesa in campo, pronto il modulo per fare la domanda di ricorso. in dotazione alla Polizia Municipale di Pesaro ci sono 5 Autovelox e qui ripercorsa in questa sequenza la vicenda. A fondo pagina un'intervista con Gianni Galdenzi, il comandante della Polizia Municipale di Pesaro, che ostenta tranquillità per noi, dice non cambia nulla e poi ci sono altre considerazioni che lui fa in questa pagina. A volte ritornano, parliamo di tasse, balzelli, perché il consorzio dice che questi soldi che chiediamo servono per sistemare i fiumi e il carrozzone non c'è più, il carrozzone si intendeva insomma quel grande contenitore dove arrivavano a pioggia tanti soldi, quindi non c'è più questa cosa per cui servono soldi. Partite le cartelle esattoriali per 35 mila soggetti e torna dopo 14 anni il consorzio di bonifica sarà chiesto poco più di un euro a ettaro in area di pianura o collinare cancellati lustri di battaglie. Nella nostra provincia il comprensorio di foglia metaura e cesano appunto coinvolgerà, come si diceva nel titolo, 35 mila 224 soggetti e l'importo, ecco, l'importo poco più di un euro è questo, un euro e 90 e invece un euro e 30 per quelli in alta collina e montagna. In un anno il consorzio è stato al consente, è stato contattato da più di 451 persone chiamate, insomma, indirizzate a togliere gli alberi caduti nel fiume. Sempre da Pesaro un'area di degrado, quella alle spalle dell'Ipercop, non vive giorni sicuramente felici perché sono i cittadini che abitano in quella zona, dicono siamo stati un po' abbandonati perché è dimenticata la grande rotatoria, siamo in via Solferino, l'incrocio di via Solferino, appunto più o meno dove l'Ipercop non si è fatta più e quindi noi viviamo in mezzo al degrado. Palazzi ed ex distributori abbandonati, vedete nella foto le aree interessate, tutto lasciato a metà, la bonifica dei due impianti di benzina, lì c'erano due distributori proprio all'angolo, ai due angoli, non sono stati terminati quindi bonifica non è stata finita e noi viviamo tra i fiumi e la puzza e la spazzatura. E cambiamo testata, quest'oggi il Corriere Adriatico non era disponibile in formato digitale, quindi guardiamo il messaggero, si parla di Notte Rosa con 300 eventi, al via questa manifestazione da Gabice fino a Senigallia, la macchina organizzativa è tutta a punto, la regione, insomma si parla anche di saldi, non anticipa le svendite e i negozianti minacciano di non aprire la sera. Fotonotizia, centro pagina, il rugito del leone, insomma Rossi ancora a sete di vittoria, in pole position ad Assen, vola Valentino e poi la rapina a Pesaro, nella farmacia storica con tanta paura per le due farmaciste chiuse nel bagno. La Notte Rosa, appunto, eccola qui, i negozi chiusi, se non si anticipa la regione, la data delle svendite e quindi ecco vedete tutti i soggetti coinvolti in questa iniziativa, c'è anche il nostro Assessore Marchegiani. E poi cani in spiaggia ma non in acqua, questo è l'altro risvolto. Potranno bagnarsi solo in piscine apposite, con fartigianato, plaudo, dice bene, se no avremmo rifiutato. La CNA dice buona l'idea, sbagliato il posto. La pagina ancora di Pesaro, del messaggero, si parla di furti che durante l'estate, ahimè, aumentano, soprattutto negli appartamenti. Piano della Prefettura per appunto la stagione estiva, grande sinergia con le forze dell'ordine e le amministrazioni coinvolte per porre i rimedi a questo flagello, però negli ultimi mesi il dato è incoraggiante perché calono i furti nelle abitazioni predisposti ai servizi di controllo, anche sull'abusivismo commerciale e soprattutto sulle spiagge. La pagina sempre che riguarda Pesaro, guardia di finanza in azione per un'operazione contro l'evasione fiscale, maxi evasione, inguaia una consulente, la guardia di finanza svela un complesso in treccio su San Marino, Rimini e Sant'Angelo in Lizzola, società cartiere create ad hoc per evadere l'IVA tramite prestanomi. Questo in sintesi l'operazione della guardia di finanza. L'ultima pagina che vi mostriamo per oggi perché come dicevo il Corriere Adriatico non siamo riusciti a scaricarlo, il porto, il porto focus principale sul porto, barca appunto si incaglia e i soccorsi pure come abbiamo fatto, vi abbiamo mostrato prima ma anche qui la foto ripresa è la medesima, vedete la seconda vongolara che tenta di portare via dalle secche la prima e danneggia anche i motori e il consigliere regionale di area popolare sollecita appunto il governatore nuovo eletto Ceriscioli alla darsena condizione rischiosa e insostenibile, cambia la raccolta differenziata in centro, anche qui la vicenda dell'ASET perché non tornano i conti, più di 2 milioni e questo è l'articolo che riguardava sempre la barca che si incaglia, l'incidente è avvenuto ieri mattina, entrambe appunto dicevo le vongolare hanno subito dei danni e poi alla darsena borghese, proprio l'ingresso della città di Fano da nord, vede appunto queste vele pubblicitarie lì da diverso tempo verranno rimosse per dare un'immagine un po' più pulita di quello scorcio di Fano così così bello della darsena borghese. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevamo vedere per oggi, la segna stampa è finita, tornerà lunedì mattina alle 7.30 puntuale naturalmente come sempre, grazie e buon sabato a tutti voi.